Bella vittoria al rimonta dell'Arezzo Calcio Femminile sul campo Gino Alfonso Sada del Fiamma Monza per la quindicesima giornata. Quinto minuto passa il Fiamma Monza con Tasca direttamente sul calcio d'angolo. Poco più tardi ci riprovano le Lombarde con la numero 10 che si incarta e viene anticipata dall'estremo difensore Aretino. Al venticinquesimo punizione di Vicchierello sul primo palo verso Orlandi che pareggia e 1-1. Vintinovesimo pericolo per Amaranto e Bali per Pirovano la palla colpisce la traversa. Andiamo alla ripresa ancora pericolosa e le Monzesi al nono e Bali prova la conclusione fuori di poco. La svolta al diciannovesimo Razzolini brucia le avversarie e protegge la sfera e segna il gol dell'1-2. L'Arezzo a questo punto ci crede al trentaduesimo Razzolini in diagonale ma Chiesa para. Le Monzesi non riescono a rialzarsi e l'Arezzo ne approfitta con questo tiro che finisce sulla traversa. Finisce 2-1, bel risultato per le ragazze di Testini, tre punti preziosissimi per il proseguo di campionato.